Euromondo è questo il nome del progetto che Università di Bergamo ha creato per ampliare e riqualificare le opportunità e le esperienze di formazione e lavoro all'estero nel contesto europeo ed extraeuropeo, sviluppando sul territorio una serie di enti ed istituzioni. Il progetto si è concretizzato in particolare con la messa online del portale www.euromondobergamo.eu con il sostegno economico di UbiBanca e Confindustria. Una piazza virtuale dunque punto di riferimento per gli studenti e i neolaureati finalizzata all'incontro domanda offerta di opportunità di tirocinio e lavoro all'estero, cercando di abbandonare la logica della partenza e del ritorno definitivi. Oggi il mondo è mobile in due direzioni, quindi si può trascorrere un'esperienza all'estero per poi rientrare, dare il contributo al proprio paese, ritornare all'estero e rientrare. Dobbiamo affrontare una terza generazione che questo territorio ha affrontato le prime due, la prima era quella dell'immigrazione, poi c'è stata quella dell'immigrazione. Oggi c'è un terzo modo di stare nel mondo che è quello di stare all'estero, ritornare e riandare all'estero e ritornare. Europa, Stati Uniti ed Asia, le mete che hanno suscitato fino ad ora maggiori interesse fra gli studenti, i neolaureati e i cittadini bergamaschi interessati. Quindi sono molto incuriositi da fenomeni differenti. L'Europa per le sue tradizioni, penso all'area umanistica, penso all'area industriale nel campo della Germania, l'America perché è una grande nazione che offre sempre opportunità e spirito imprenditoriale, l'Asia perché è il nuovo mondo. E quindi quello che è interessante osservare è lo spirito ampio con cui i ragazzi guardano alle loro prospettive. Per noi è un fatto positivo e di stimolo.